Musica Musica Amanti dello stile Benvenuti sul canale youtube di AB Style Magazine Io sono Alessandra Basile e oggi parliamo di elettrodomestici Perché diciamolo, quante volte avreste voluto infilare i panni sporchi nella lavatrice e poi tirarli fuori non solo puliti ma anche asciutti? Ebbene oggi vediamo come fare con la nuova Lava Asciuga Oko Kombi serie 9000 di IG Ma prima di iniziare col video sapete cosa dovete fare Ricordatevi di iscrivervi al canale youtube di AB Style Magazine e di attivare le notifiche cliccando sulla campanellina In questo modo non perderete mai le nostre storie di stile E adesso sigla Musica La nuova Lava Asciuga Aegee Oko Kombi serie 9000 è la punta di diamante del marchio E infatti vi permette di fare in realtà una piccola magia perché vi permette in un solo passaggio di trasformare i vostri panni da sporchi e asciutti a puliti ed asciutti Non solo è la prima Lava Asciuga al mondo a montare la pompa di calore Vediamola più da vicino Musica Partiamo subito dalla scelta di utilizzare la pompa di calore che si concretizza nella tecnologia che Aegee chiama SensiDry Permette a questa macchina di asciugare i vostri capi con una temperatura che è di fatto dimezzata rispetto alle Lava Asciuga tradizionali Questo ovviamente comporta una serie di vantaggi In primis che i vostri panni non vengono stressati inutilmente quindi non c'è rischio che si restringano o che comunque subiscano l'usura del tempo E poi c'è un altro vantaggio importante perché se la temperatura è più bassa lo è anche la bolletta il che non guasta in questo periodo storico e perché questa Lava Asciuga utilizza il 55% di energia in meno rispetto alle macchine tradizionali E infatti questa è l'unica Lava Asciuga sul mercato in classe A per quanto riguarda il lavaggio e in classe C per lavaggio di asciugatura Una volta ho visto girare un meme su Facebook che faceva vedere un vestito sporco che doveva essere lavato in lavatrice che riportava l'etichetta con le istruzioni per il corretto lavaggio e ironicamente sotto c'era scritto se no chiedi alla mamma sicuramente lei sa cosa devi fare Ebbene se siete tra quelli che ogni tanto vanno un po' nel panico quando devono caricare la lavatrice basta, niente più paura con questa Lava Asciuga perché monta dei sensori che vi restituiscono un feedback immediato rispetto al carico del cestello In altre parole vi dicono subito se state sovraccaricando o sotto caricando il cestello della Lava Asciuga Questo vi permette innanzitutto di avere tutti i benefici e la qualità, le prestazioni di lavaggio che questa macchina sa garantire E poi c'è anche un altro grande beneficio perché vi permette di risparmiare tempo, acqua ed energia perché nel caso in cui doveste andare a sotto caricare il cestello i sensori vanno a regolare in automatico i consumi di acqua ed energia E ora parliamo di un aspetto che mi ha convinta tantissimo perché è tanto semplice quanto efficace Si chiama Care Drum ed è il nuovo cestello che monta questa Lava Asciuga a Eghè che presenta un pattern particolare a cuscinetti che permette che i capi vadano a scivolare sopra i cuscinetti stessi e in questa maniera rimangono rialzati rispetto ai classici fori che siete abituati a vedere sui cestelli tradizionali Questo fa in modo che i vostri vestiti non vadano a sfregare contro i fori e quindi col tempo non si rovinano Anche questa Lava Asciuga segue uno dei trend e delle tecnologie più apprezzate degli ultimi anni vale a dire l'utilizzo del vapore Infatti ci sono due programmi che potete scegliere che vanno proprio in questa direzione Il primo si chiama Vapore Refresh e dura solamente 25 minuti da una rinfrescata ai vostri capi con un getto di vapore Utilissimo in tutte quelle situazioni tipo provate a pensare quando andate fuori a cena tornate a casa e avete la camicia pregna di odore di fritto Terribile no? Però in realtà non c'è bisogno di lavare la camicia con l'acqua perché non è sporca è sufficiente darle una rinfrescata con un getto di vapore proprio come potete fare con questa Lava Asciuga e poi c'è l'opzione Vapore Finale che al termine del ciclo di lavaggio aiuta a distendere le pieghe quindi la camicia incriminata sarà più facile da stirare E se avete poco tempo c'è un altro programma molto utile si chiama Non Stop 3 Ore 3 Chili e il nome è già abbastanza chiaro no? Si tratta di un programma che impiega solamente 3 ore per lavare ed asciugare fino a 3 chili di bucato Voi li inserite nel cestello, premete un bottone e dopo 3 ore è tutto perfettamente lavato ed asciugato E last but not least questa è una Lava Asciuga Connessa Personalmente ritengo che avere gli elettrodomestici connessi alla rete di casa sia un comfort di cui non riesco più a fare a meno Poter avviare la lavatrice da remoto quando magari siete in ufficio e assicurarvi che termini il ciclo quando rientrate a casa è veramente comodo E poi con l'applicazione Aeghe non vi dovete più preoccupare di sbagliare il programma della lavatrice perché direttamente dal telefono voi impostate semplicemente la tipologia di tessuto il livello di sporco e fa tutto lei Quindi dimenticatevi quelle scene tragiche che ogni tanto si consumano davanti all'oblò della lavatrice quando lo riaprite, tirate fuori i vestiti e il vostro maglioncino preferito è diventato della taglia di una bambola Non succederà più, i vostri capi rimarranno perfetti ed inalterati nel tempo E ora parliamo di stile, perché sì, anche gli eutrodomestici possono averlo Infatti questa è la nuova Oco Combi è stata rilanciata da Aeghe perché è stata rivista anche dal punto di vista estetico Infatti ora abbiamo un quadro comandi con un pannello scuro che riprende la cornice scura del blu quindi il risultato è sicuramente molto raffinato e questa è una lavasciuga che si inserisce perfettamente nell'angolo lavanderia della casa Innanzitutto perché dal punto di vista delle dimensioni, nonostante monti la pompa di calore presenta la profondità standard di tutte le altre lavasciuga e poi perché come vedete il design appunto è elegante e minimal Come minimal è lo sforzo che dovete fare per prendervi cura dei vostri capi con questa lavasciuga Un solo elettrodomestico, un solo pulsante per fare la magia di cui vi dicevo all'inizio di questo video tramutare i vostri vestiti da asciutti e sporchi ad asciutti e puliti Bene amici, io sono Alessandra Basile e vi ringrazio per aver guardato questo video Se vi è piaciuto mi raccomando lasciate un like Se avete qualsiasi curiosità su questa lavasciuga a eghe non esitate a lasciare un commento qui sotto Infine, ultima cosa ma la più importante, ricordatevi di iscrivervi al canale YouTube di Abby Style Magazine e di attivare le notifiche cliccando sulla campanellina In questo modo non perderete mai le nostre storie di stile Alla prossima, ciao! E' la nuova a eghe, oh che cacchio! In automatico i consumi di acqua ed energia